Ciao Goodleer, bentornato e bentornata. Continuiamo ad addentrarci nel tuo BIOS. Infatti ora comincerai ad impostare i parametri partendo da una schermata classica. Il BIOS può avere due tipi di interfaccia, interfaccia standard o interfaccia grafica. L'interazione con il programma può avvenire in questi due modi, quindi o sfruttando l'interfaccia classica che andremo a vedere adesso o sfruttando un'interfaccia grafica molto più esteticamente bella che vedremo più avanti. La maggior parte delle schede matri presenti attualmente in giro non possiede un'interfaccia grafica che non solo è accattivante, bella, innovativa e soprattutto ad alta usabilità o come si dice in inglese user friendly, ma è di tipo standard. E l'interazione che può avvenire con il BIOS avviene esclusivamente tramite la tastiera. Invece se ti trovi nel ben mezzo di un'interfaccia grafica, ciò ti permetterà di interagire con il BIOS, con il programma selezionando le opzioni e le funzioni anche attraverso il mouse, quindi rendendo più pratica e rapida l'impostazione stessa. Ma andiamo per gradi, ora diamo un'ipotetica spiegazione di un generico BIOS ad interfaccia standard. Nel momento in cui entri nel BIOS, in una zona dello schermo, troverai di norma una leggenda di tasti che ti permetteranno di selezionare le varie funzioni o entrare nei menu o nei sottomenu della stringa. Qui rappresentata in figura puoi vedere un'ipotetica leggenda di un BIOS generico che ti permette di interagire con i menu o sottomenu tramite i tasti freccia, avanti, dietro o destra, sinistra e variare il parametro selezionato tramite i tasti più o meno. Potrai anche in questo caso selezionare i parametri base del BIOS prefissati dal costruttore oppure uscire e salvare i parametri selezionati grazie alla pressione del tasto F10. Ma, ripeto, questo tipo di leggenda è molto generica. Non c'è una corrispondenza certa di questi tasti per tutti i BIOS che incontrerai nel tuo percorso. Ora quindi iniziamo a vedere alcune immagini e descrizione dei tasti relativi ad un BIOS generico. Come già ipotizzato, le schermate dei parametri che visualizzerai, che modificherai e quindi adesso descriverò dipendono specificamente dal tipo di BIOS. Quindi non sarà possibile dare un'indicazione univoca per tutti i tipi di BIOS e per tutte le visualizzazioni e dei parametri che troverai al suo interno. Sarà a tua cura individuare per grandi linee ciò che adesso evidenzierò con questo specifico BIOS in relazione al BIOS installato sulla tua scheda madre. Quindi ora vedrai alcuni parametri, anche se non tutti, vista la varietà fornita dal BIOS stesso, che saranno essenziali quelli più utilizzati e che, come ripeto, dovrai ricercare nelle varie schermate del tuo BIOS. Una sequenza di schermate alla presentazione del BIOS ti permetterà di alterare i parametri, alcuni dei quali, se variati senza cognizione di causa, possono però bloccare il tuo PC, renderlo inutilizzabile. Ma, Goddler, tranquillo, perché il piano di emergenza ce l'abbiamo. Infatti, se il computer dovesse rimanere bloccato a causa delle impostazioni errate, potrai sempre ripissinare almeno i valori di base, quelli prefissati dal costruttore, nella sezione EXIT, quindi di uscita, che però ti spiegherò nella prossima lezione. Alternativamente, potrai interagire in maniera drastica con il PC. Come? Innanzitutto spegnilo e togli il cavo di alimentazione dalla corrente. Ora apri il case e togli la batteria tampone per un tempo orientativo di circa un minuto. Trascorso questo tempo, reinserisci la batteria. Al termine di questo periodo di tempo, che, ripeto, orientalmente è più che sufficiente un minuto, avverrà il reset, quindi la cancellazione, della memoria CMOS, quella che conserve parametri base del BIOS. La cancellazione potrà anche avvenire utilizzando un ponticello dedicato presente su alcune schede matri. Riaccendendo il PC, il BIOS, non avendo più in memoria i parametri base, te lo notificherà, chiedendo almeno il caricamento dei parametri base, quelli che dicevamo, definiti dal costruttore, in modo da poter avviare successivamente il sistema operativo. A meno quindi di altri problemi, software o hardware, il gioco è fatto sostanzialmente, se hai creato qualche problema, lo potrai eliminare in questo modo. Quindi avrai sbloccato un PC precedentemente bloccato a causa di impostazioni errate nel BIOS. Una volta che sei entrato nel setup del BIOS, avrai dei menu disponibili, che, sottolineo ancora, variano in base al tipo di programma. Orientativamente troverai alcune delle seguenti voci. L'opzione main, quindi, che va a interagire o a visualizzare le informazioni generali, principali. Una sezione advanced, quindi, che permetterà di selezionare e visualizzare alcune informazioni avanzate. Una sezione di sicurezza, che, come vedremo poi, ti garantirà un minimo di sicurezza per il tuo BIOS. La sezione power, che è quella dell'alimentazione. Una sezione importantissima, che è quella del boot, del menu di avvio del tuo sistema operativo. Infine, troverai, normalmente, anche la sezione exit, che ti permetterà di uscire e salvare o meno i parametri impostati. Quindi, Goodyear, dopo aver preso visione delle opzioni, potrai iniziare a interagire e personalizzare il tuo BIOS in base alle tue necessità. Partiamo dalla sezione main, quindi funzione principali. In questa schermata visualizzerai, e potrai eventualmente modificare, alcuni parametri come la data e l'ora del sistema. Ti sarà sufficiente posizionarti tramite i tasti nei campi da modificare e, digitando tramite la tastiera numerica i nuovi parametri, avrai ripristinato i dati corretti per la data e l'ora. Accanto alla voce Extended Memory, visualizzerai la quantità di RAM presente o installata sulla mainboard. Inoltre, potrai accedere ad altre funzioni, ad altri sottomenu e, nel caso in cui trovassi un simbolo tipo un triangolino orizzontale, ti evidenzerà proprio questa opportunità che ti permetterà di accedere ad ulteriori sottomenu della funzione in quel momento evidenziata. Quanto appena sposto, lo vediamo graficamente nella schermata principale. Infatti, nella sezione in alto, troverai le informazioni di data ed ora del BIOS del sistema. Nella sezione in basso, trovi la funzione relativa alle porte SATA. In questo specifico computer, ci sono collegate due periferiche, un lettore ed un masterizzatore. In basso a sinistra, trovi la sezione Boot Features, ossia riguardante le funzioni di avvio, che vedremo in seguito. In basso a destra, trovi un numero corrispondente alla memoria RAM installata all'interno del tuo computer. Di norma, nella zona destra, trovi evidenziata la descrizione del parametro selezionato. Ed in basso trovi una leggenda che ti spiega meglio come interagire con la schermata visualizzata in quel momento. Aggiungiamo che in alto trovi tutte le varie sezioni che man mano descriveremo. Vediamo cosa accade se dobbiamo accedere a questo sottomenu SATA. Troverai le periferiche collegate alla corrispondente porta SATA 0, 1, 2 o 3, a seconda di quante ne presenta la schermata. Nel caso specifico, troverai informazioni relative a dischi rigidi e a lettori masterizzatori. Per i dischi rigidi vedrai alcuni parametri, ma quello che forse ti interessa di più è il relativo valore in gigabyte di capacità di memoria. Altra funzione abbastanza importante per cui riguarda i dischi rigidi è la funzione Smart Monitoring. Ossia, nel momento in cui questa funzione è abilitata, il BIOS ad ogni accensione vedrà, controllerà lo stato di funzionalità del tuo disco rigido e qualora cominciasse ad intravedere qualche difficoltà di lettura scrittura, te lo notificherà preavvisandoti da un potenziale danno imminente sul disco rigido. E quindi sarà a tua cura poi eseguire il backup dei dati importanti prima che si verifichi il crash definitivo dello stesso. Infatti, questa è la funzione SATA port 0 della sezione mail, qui trovi scritte alcune caratteristiche relative al disco rigido, ma se vuoi quella più importante è relativa alla capacità di memoria e questa è la funzione Smart Monitor che deve essere abilitata per darti una garanzia di salvataggio dei dati all'interno del tuo disco rigido prima che si danneggi in maniera irrimediabile. Sempre nella schermata principale abbiamo detto che esiste un sottomenu chiamato Boot Features, in questo caso specifico potrai accedere ad un sottomenu che ti visualizza le funzioni di avvio del tuo sistema operativo, del tuo computer. Al suo interno trovi una funzione chiamata Fast Boot che se impostata su Enable, quindi abilitata, ti potrà aiutare nell'accorciare il tempo di avvio del sistema operativo sulla RAM installata nel computer, riducendo il numero di test che il bio stesso esegue. Nella funzione invece Boot Menu presente all'interno di questa scheda avrai la possibilità di abilitare o meno la visualizzazione della lista del menu di avvio del sistema operativo in modo da scegliere quale dispositivo o meglio da quale dispositivo caricare il sistema operativo qualora ne avessi più di uno o qualora volessi avviare il tuo computer dal lettore ottico. Ciò avviene normalmente premendo il tasto F12 prima che inizi il caricamento del sistema operativo nella RAM. Quindi in sintesi, abilitare la funzione Boot Menu permette che venga visualizzato il menu di avvio premendo il tasto F12 nel quale troverà come appena detto la lista dei dispositivi per avviare il tuo PC. Infatti andiamo a vedere quanto appena descritto su questa immagine. Come dicevamo l'opzione Fast Boot, se abilitata, permette di avviare più rapidamente il sistema operativo, la funzione Boot Menu, se abilitata, permette la visualizzazione dei dispositivi di avvio premendo il tasto F12. Ora accediamo alle funzioni avanzate. In questa sezione, come diceva la parola, potrai accedere ad una lista di categorie per visualizzare o selezionare alcune funzioni avanzate. Anche qui, qualora fossero presenti, posizionandoti sulla stringa con i tasti freccia e premendo invio, potrai accedere a dei sottomenu. Vediamone alcune. In questo caso mi trovo sotto la sezione Advanced, nella quale saranno evidenziate tutte queste funzioni, ognuna delle quali presenta un sottomenu. Non le evidenzieremo tutte, ma sostanzialmente quelle che ritengo più opportune, partendo dalla prima Peripheral Configuration. In questa sezione c'è la funzione USB Host Controller, che permette di abilitare o disabilitare alcuni altri sottomenu, che nella fattispecie sono il primo, è la sezione USB Devices, che permette di scegliere se limitare la funzionalità dei dispositivi USB collegato alle corrispondenti porte. Quindi potrai decidere se escludere dal pilotaggio delle porte USB alcuni dispositivi. Normalmente posizionando questo parametro su All, quindi tutte, ogni dispositivo USB collegato alle corrispondenti porte sarà potenzialmente pilotabile. La seconda funzione abilitata è USB Ports, che permette di abilitare o disabilitare le porte USB. Quindi potrai decidere di non far funzionare le porte USB. Assicurati quindi che questa opzione sia posizionata su Enable All, in modo da avere tutte le porte USB abilitate e in grado di poter pilotare ogni dispositivo collegato ad esse. Bene, vediamo quanto appena detto. La sezione USB Controller, se abilitata, permette accesso a questi altri sottomenu, che sono USB Devices, quindi posizionandola su All, sarà in grado di poter comandare da tutte le porte USB qualsiasi periferica e ulteriormente posizionando su Enable All, la funzione USB Ports, avrai tutte le porte USB abilitate a funzionare. Andiamo avanti nella descrizione delle funzioni avanzate. Un altro sottomenu è definito con la sigla Advanced System Configuration, che ti permetterà di selezionare il tipo di scheda grafica che pilota il tuo monitor all'accensione. Infatti in questo caso specifico potrai selezionare o l'opzione IGD, ossia Integrated Graphic Device, ossia scheda grafica integrata sulla schiena madre, o PCI Express Graphic, ossia una scheda grafica di tipo PCI Express installata sul corrispondente slot. Ancora, potrai selezionare invece una scheda grafica di tipo PCI, o, ancora meglio, lasciando l'opzione sul parametro automatico, la selezione della scheda grafica avverrà automaticamente dal tuo BIOS. Ma, secondo me, questo specifico caso è pur sempre utilizzabile, ma lo eviterei nel caso in cui sulla tua motherboard siano installate più schede grafiche, semplicemente perché tu dovrai decidere quale scheda grafica dovrai utilizzare come principale. Ancora troviamo una funzione che già conosci, Smart Device Monitoring, che se posizionata su Enable ti permetterà, grazie al BIOS, di attivare un controllo sulle periferiche collegate all'interfaccia SATA, in modo da fornire una previsione di possibile imminente danno sulla stessa. Infine, c'è la funzione Fan Control, che se posizionata su Enable, permette al BIOS di variare la velocità delle ventole dissipatrici, in base alla temperatura all'interno del tuo computer, ovviamente se è presente un sensore della temperatura. Vediamo quanto appena descritto tramite una immagine grafica. Nella sezione Primary Display, se posizionata su Auto, ti permetterà di selezionare la scheda grafica principale in maniera automatica, oppure potrai scegliere tu, se selezionare la scheda grafica integrata, la scheda grafica PCI Express o la scheda grafica di tipo PCI. La funzione Smart Device Monitor permette di abilitare il controllo sulle periferiche SATA per fornire una diagnosi di funzionalità. Infine, la sezione Fan Control permette di abilitare il controllo della velocità delle ventole dissipatrice grazie alla presenza eventuale di un sensore di temperatura. La funzione Advanced Processor Options, Qui puoi impostare il controllo sulla temperatura del processore in modo da evitare una sola temperatura che lo danneggi. Quindi potrai abilitare il controllo della temperatura sul processore stesso in modo che il computer vada in protezione non appena la temperatura raggiunga una soglia oltremodo critica in modo da evitare danni irreversibili allo stesso. Nella peggiore dell'ipotesi, in questo caso, potrai avere lo spegnimento automatico del PC che tra l'altro ti potrebbe tornare utile come diagnosi per risolvere un problema qualora questo evento si ripeta frequentemente come ad esempio una eccessiva sporcizia sull'avento la stessa. Quindi rimuovendo questo surplus di sporcizia verosimilmente potrai risolvere problemi di questo tipo. Oppure, in alternativa, potrai sempre aggiungere una ventola ulteriore per tenere la temperatura interna del case relativamente bassa. Altra funzione avanzata sul processore è l'opzione Virtualization Technology. Cosa vuol dire? Che, se presente, questo potenzialmente può essere un computer di un dominatore del computer in quanto avanti nel percorso capirai cosa significa virtualizzare un sistema operativo o, ancora meglio, creare una macchina virtuale nel tuo PC. Bene, battuta a parte, ciò che intendo dire è che ora questa informazione, se vuoi, è di poco valore perché potresti ignorarne il significato ma più avanti scoprirai la grande utilità della virtualizzazione. Nello specifico di questa funzione indica che il processore ha una capacità nativa ossia in grado di supportare tecnologie di virtualizzazione in modo da poter creare e gestire macchine virtuali che è tanto utile per gli smanettoni dilettanti, intermedi ed avanzati. Non amareggiarti comunque se il tuo PC non possiede questa tipologia hardware in quanto fortunatamente, grazie a dei software, possiamo eliminare questo ostacolo. Quanto appena detto, lo evidenziamo da questa figura. CPU Thermal Management ti permette di abilitare il controllo della temperatura del processore se, in questo caso specifico, è selezionato il parametro Enhanced. La capacità di gestione delle macchine virtuali normalmente è indicato con la sigla Virtualization Technology che dovrà essere abilitata qualora tu decidessi di utilizzare macchine virtuali nel tuo computer. Proprio per completezza riguardo ai software ti dico che alcune versioni di Windows 7 già hanno integrate la possibilità di virtualizzazione ma comunque esistono anche altri programmi in grado di realizzare ciò alcuni gratuiti, altri a pagamento. A tempo dovuto ti srodolerò tutte le nozioni relative. Nella prossima lezione continuerai di impostare altri parametri per completare l'interazione nel tuo BIOS. Ora un forte saluto, ciao a presto da Gallo e alla prossima!